Final Credit è sceso fino a 4.50, questa mattina è in doppia cifra, lo ricordiamo. Due di corda per lui, si apre le gabbie, parto! Cavalli dell'ultima corsa. Ed è proprio Final Credit il più sollecito dal due di corda, si incarica di fare l'andatura, cosa che gli riesce. Dopo poche centinaia di metri, l'altro che ha preso una buona partenza è Loengrin che si è sistemato in seconda, poi Rebel 6, Martingana, Charlie Giambore, Farouja, Dantes, Conte Duval ed ancora troviamo la figura di Royal Status a precedere, Blu d'Incanto e Tietro Lodge che si è sistemato in coda a tutti. Sta tirando via Final Credit che ha fatto subito una bella selezione, adesso ha circa 6 lunghezze da gestire rispetto al primo degli inseguitori. Tutto questo quando i cavalli entrano addirittura in questo istante, sempre Final Credit davanti. Nei confronti di Loengrin, Rebel 6, ancora Charles Giambore, poi alle loro spalle troviamo anche Farouja, Dantes che va per corsie esterne, all'interno impacchettato c'è Allen Key e filtra tra i cavalli anche Royal Status, intersezione delle piste superata abbondantemente con Final Credit. Palla lunga e pedalare, adesso ha circa 10 lunghezze, tra il primo e il secondo, ma gli altri devono provare la rimonta con all'esterno Charles Giambore, ancora Farouja, poi Allen Key che si avvicina ma è ancora abbastanza lontano, Loengrin che sta di dentro, Blu d'Incanto che ha cominciato a rimonta, al paletto dei 200, c'è un fossato letterale tra Final Credit e gli avversari. Mario Sanna che realizza il cost to cost, delitto perfetto, da lontano, palla lunga e pedalare senza fare prigionieri, vince facile nei confronti di Loengrin ed ancora per il terzo dovrebbe essere Royal Status, Charles Giambore e Martingana. Dobbiamo rivedere il tutto, ma qui c'è stato un One Horse Show, Final Credit, troppo alta, la quota di 11, forma recente, comprovata per il figlio di New Bay che annette un'altra vittoria alle due che già aveva, doppio in giornata per Mario Sanna, tante vittorie anche per Stefano Botti al training e ai colori. 5 al primo posto, vediamo un po' chi è secondo, terzo e quarto, dovrebbe essere Loengrin, quindi numero 6, sì, per il terzo, se non ho visto male, il 4 di Royal Status, ma chiaramente c'è una foto stretta con l'altro in scuderia, il 2, Charles Giambore e vediamo per il quinto, il numero 11, blu d'incanto, quindi dal punto di vista numerico l'ordine d'arrivo recita così, 5-6, poi foto tra il 4 e il 2 e 11 a completare il quadro, Final Credit, Demolition Job per il 4 anni che vince nettamente senza mai guardarsi alle spalle, 5-6, poi foto 4-2 ed ancora 11 per il quinto posto. Da Capannelle è veramente tutto, Gabriele Canti vi ringrazio, vi dà l'appuntamento alla prossima giornata di corso di questo ipotro, martedì,